Gli anni 80 di Fabrizio Cotti Che dire, gli anni 80 di Fabrizio Cotti il più bel periodo della mia vita il periodo d'archeggiante perché per me è stato molto importante e musica, tutto ciò direi, l'ho scritto più di una volta anche su Facebook il più bel periodo musicale della storia della musica leggera, pare il mio Alcuni nomi? Depeche Mode Cure U2 e te ne potrei dire all'infinito